I Patrimoni dell'Umanità Grazie alle esperienze di docenti, esperti ed amministratori locali. In particolare è stata l'occasione per far conoscere le ricerche più recenti sviluppate dal Dipartimento Dicem sul sito UNESCO Materano e ospitare un dibattito accademico insieme ad altre cattedre UNESCO e studiosi di altri Atenei sui temi della gestione del patrimonio mondiale in ottica sostenibile. Allo stesso tempo l'iniziativa ha avuto una importante valenza politica di dialogo tra l'università, le istituzioni pubbliche di governo del territorio e la comunità sui temi del patrimonio UNESCO dei Sassi al fine di rilanciare il piano strategico di gestione del sito UNESCO di Matera. Inoltre sono stati coinvolti attivamente i giovani, studenti della Scuola dell'Obbligo con un laboratorio presso l'Istituto Comprensivo Minozzi Festa e studenti universitari dei corsi di laurea in architettura, archeologia e storia dell'arte e beni culturali di Matera. La due giorni è stata realizzata in collaborazione con FAI Basilicata, Ordine degli Ingegneri della provincia di Matera e Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Matera, Istituto Comprensivo Minozzi Festa, sempre di Matera e Fondazione Enrico Mattei. A 30 anni dall'iscrizione di Matera nelle liste UNESCO, Basilicata Creativa, che è l'associazione, il cluster che mette insieme l'università, gli enti di ricerca e tantissime imprese lucane nell'ambito delle industrie culturali e creative e del turismo, insieme con la cattedra UNESCO dell'Università di Basilicata, faremo un punto su quello che sono stati questi 30 anni e su quelli che saranno i prossimi 30 anni. Perché nasce questo evento? Intanto perché l'università, con i suoi ricercatori, i suoi professori, hanno moltissimo da raccontare alla città. Purtroppo la città e l'università in questi ultimi tempi non hanno colloquiato molto. In queste due giornate scopriremo tutte le ricerche e le indagini che l'università sta portando avanti e che può portare avanti nei prossimi anni, che potranno essere occasione, secondo noi, sia per le imprese ma soprattutto per la pubblica amministrazione, di costruire finalmente quel rapporto che porta al famoso osservatorio dei Sassi. Abbiamo bisogno di un nuovo periodo di coprogettazione insieme, così come fu qualche anno fa quelli che furono i simposi appunto per la creazione del piano UNESCO e siamo convinti che queste due giornate saranno un buon inizio per il 2024 fatto di incontri, di approfondimenti e di coprogettazione. Direi che la parola chiave è insieme. Intanto insieme, università, comune, amministrazione, cittadini, perché le grandi sfide è la sfida della complessità all'interno della quale dobbiamo ragionare sui futuri di questo patrimonio così importante che è un patrimonio dell'umanità, quindi che abbiamo in gestione ma per l'umanità. E poi insieme anche nel senso che dobbiamo ricostruire un ponte tra, per esempio, materiale e immateriale ci stanno incominciando a lavorare anche all'UNESCO, cioè di come la dimensione immateriale che è quella della conoscenza, in realtà pervada poi tutto il mondo di ciò che prende forma nella manifestazione, quindi nella materia. La cattedra UNESCO è stata voluta per costituire un presidio culturale dell'UNESCO all'interno della nostra università, però ovviamente è parte di reti, di reti di cattedra UNESCO che si occupano a vario titolo di patrimonio culturale, archeologico, architettonico, materiale e immateriale, perché le reti delle cattedre UNESCO, anche le cattedre UNESCO che afferiscono proprio alle università, c'è una rete specifica delle cattedre UNESCO universitarie, collaborano chiaramente alla sensibilizzazione, alla programmazione di temi e di aspetti legati alla conoscenza, alla tutela, alla valorizzazione del patrimonio culturale nell'ambito chiaramente della grande famiglia UNESCO. Lavorare da soli non ha senso, istituire una cattedra UNESCO vuol dire già pensare di inserire questa cattedra nella rete delle altre cattedre UNESCO per arrivare a degli obiettivi condivisi, partecipati, a dei dibattiti costanti su queste tematiche piuttosto cogenti e anche di grande criticità, soprattutto in presenza di patrimoni fragili come ad esempio è il patrimonio dell'insediamento rupestre di Matera. Appunto dare attuazione al piano di gestione e portarlo avanti e far sì che ognuno, come è stato stilato ed è approvato ed è attivo e dovrebbe essere, ogni attore che l'università come ricerca, la sopravvendenza come tutela, i musei come la gestione, il turismo in capo alla città, ogni attore deve contribuire a ottemperare quello che il piano di gestione ha indicato. Primi interventi a farsi, prima di azioni bisogna un attimo insieme riguardarsi le competenze e riguardare gli obiettivi a cui raggiungere e poi le azioni si pongono in essere quando è chiaro chi cosa fa con un tempo e mettendo in enza anche che figure servono per fare questo, in modo tale che si possa anche fare dei bandi, delle selezioni mirate, dei professionisti perché ovvio noi possiamo essere coordinatori di un'attività ma le figure competenti sono più che mai necessarie. Una città che è un insieme di paesaggio urbanistica, architettura, anche dal punto di vista antropologico, a Matera c'è tutto quello che il mondo della cultura si auspica, qui studiando solo Matera puoi capire che cos'è la storia, è densa di significati trasversali. La conclusione è che dobbiamo sforzarci tutti come istituzioni per fare in modo che questo trentennale ci possa proiettare ad altri trent'anni di un patrimonio dell'umanità che possa guardare al futuro, all'innovazione ma anche alla cura dei nostri sassi, del nostro patrimonio, anche la murgia ovviamente. Quindi il ruolo dell'università è fondamentale. Oggi c'è questo evento con la cattedra UNESCO, dobbiamo fare in modo che come istituzioni dal comune alla regione, alla provincia, all'università si possa istituire questo osservatorio dei sassi. C'è stato già il piano di gestione nel 2013, dobbiamo dare seguito, probabilmente bisognava già istituirlo prima ma possiamo ancora recuperare e quindi io auspico che ci siano anche, ripeto, le risorse, gli impegni da parte di tutti per fare in modo che questo osservatorio possa essere un controllo, un monitoraggio su quelli che sono i nostri sassi, i nostri antichi rioni per poterli custodire ma anche valorizzare. Il convegno ha visto anche la partecipazione di alcuni ex sindaci della città dei sassi, i quali hanno approfondito il legame tra gli antichi rioni e la città, oltre alle nuove sfide che attendono la comunità materana. Credo che ci sia e che deve essere rafforzato ancora di più. Io non riesco a immaginare Matera senza sassi così, i sassi senza Matera. Abbiamo bisogno che le due realtà si identifichino, si riconoscano e vivano l'esperienza positiva per l'uno e per l'altro, oltre che superare i limiti che hanno l'uno e l'altro. E questo passa attraverso una lettura attuale della 771 attualizzando gli obblighi, gli impegni e le responsabilità che quella legge attribuisce e valorizzando ancora di più, rafforzandone quelle che sono le potenzialità della città e del territorio. Non solo quello materano, ma addirittura quello provinciale e regionale nel suo insieme. Le prossime sfide da mettere in campo per raggiungere anche questo obiettivo, tra l'altro? Tante risorse incredibili che ha la provincia materana e l'intera regione Basilicata per dare un senso a un turismo che non sia di consumo soltanto della città, ma piuttosto di rafforzamento dell'offerta. Un turismo che sia di quelli che portano risorse, non quelli che consumano territorio o occasioni. Quindi più che ricriminare su tante cose bisogna rimettersi con entusiasmo e compassione a parlare dell'intera città, del coinvolgimento dei cittadini e della regione Basilicata. Io penso che la città e i cittadini abbiano recuperato in una buona misura il rapporto con la loro storia che in qualche modo ha le radici profonde nei vecchi rioni e nei sassi. Con un po' di fatica perché non dobbiamo dimenticare che l'evacuazione praticamente totale dei sassi tra la fine degli anni 50 e gli inizi degli anni 70, questo è il periodo che fu interessato allo svuotamento, fu un momento per certi aspetti epico per la città e però per tanti altri aspetti fu anche drammatico perché ci fu una cesura, una frattura, una ferita profonda che si è andata rimarginando a fatica. Io credo che tra l'iscrizione della città nella lista patrimonio dell'umanità e qualche anno dopo, diciamo qualche decennio dopo, capitale europea della cultura, in qualche modo la città e i cittadini abbiano recuperato questo rapporto con i sassi. Da patrimonio UNESCO a capitale europea della cultura per il 2019, quali sono le prossime sfide per la città ma soprattutto anche per la comunità di Matera? Io penso che tra tutte la prima e quella a cui accennavo prima, cercare le modalità attraverso le quali si possa rendere compatibile la residenza in un contesto nel quale l'assalto dei turisti, la presenza delle attività commerciali, ricettive, la fanno da padrone. Quindi credo che a proposito proprio della gestione del sito UNESCO che comporta la elaborazione e la tenuta di un piano di gestione che in verità con l'amministrazione che io presidevo nel 2014 fu approvato anche dal Consiglio Comunale ed ebbe il vaglio anche delle autorità del Comitato UNESCO. Il piano di gestione dei sassi deve poter contenere tutti gli aspetti di una sostenibilità della presenza delle persone e quindi con tutte le necessità e le esigenze che queste comportano insieme naturalmente al fatto nuovo, eclatante che si è determinato con Capitale Europeo della Cultura, e cioè l'apertura a 360 gradi della presenza esterna dei visitatori, dei turisti che naturalmente costituiscono una ricchezza non trascurabile. Oggi il rapporto tra la città del piano e i sassi è un rapporto, chiamiamolo funzionale, cioè è diventato il baricentro dell'accoglienza della città. Vi è stato ovviamente uno sviamento rispetto al progetto iniziale, perché noi quando abbiamo iniziato la grande battaglia del recupero di questi 30 ettari del cuore di Matera, avevamo arrangiato uno slogan, realizzare le residenze nei sassi per dar vita alla città antica e le funzioni nei sassi per dare vitalità alla città. Purtroppo il valore residenziale dei sassi, di fronte alla mercificazione del patrimonio culturale che è avvenuto, lentamente svilitto. Per cui oggi i sassi sono per predominio di aria di accoglienza e di ristorazione. Lentamente gli abitanti sono stati emarginati, se non addirittura sconfitti. Questo è il vero problema oggi dei sassi, recuperare il valore di un'area residenziale. Il rapporto è endemico, naturale, simbiotico. Praticamente noi abbiamo costruito, per fare un esempio, la candidatura quando ero sindaco di Matera, capitale della cultura europea, proprio su questo passaggio dell'ormo umana che nasce dall'età paleolitica e attraverso i sassi e arriva fino al Novecento. Quindi è un legame indistruttibile. Eppure dal dibattito è emersa la necessità di rafforzare questo legame. Come mai, secondo lei e soprattutto come si potrebbe rafforzare? Bisogna rafforzare la città. Rafforzando la città si rafforzano i legami con la nostra storia. La storia e il futuro, poi tutto sommato, sul quale poggiare fondamentalmente per costruire qualcosa di nuovo. Matera attraversa, secondo me, un periodo di gravissima crisi dal punto di vista dei valori, soprattutto dei valori urbanistici che hanno caratterizzato buona parte dalla seconda metà del Novecento materano. Quindi bisogna restituire a Matera un'anima. Oggi penso che quest'anima non ci sia. Ma come mai ad oggi manca una visione a questa città? Perché dopo che Matera riuscì a conquistare la candidatura di capitale europeo dalla cultura, si è adagiata ed è diventato, come tutti quanti potete constatare, un ZUC sul modello arabo, incompatibile con la nostra tradizione e con le aspettative che avevamo legato a Matera capitale della cultura europea. Quindi ad oggi quali potrebbero essere le prossime sfide per rilanciare una comunità che credo abbia ancora tanto da dire e da dare? Innanzitutto dobbiamo ripensare la città in termini di progettazione urbanistica, evitare gli scempi che si stanno già realizzando nella città. E poi soprattutto riformulare un programma che dal punto di vista dell'accoglienza renda appetibile l'offerta che Matera può dare, non soltanto l'offerta da cartolino illustrato. Nella Casa delle Tecnologie Emergenti della città di Sassi si è discusso anche di come le nuove tecnologie possano contribuire a rendere il patrimonio culturale accessibile a tutti. Questa tecnologia permette alle persone che non sono fisicamente presenti qui a Matera di iniziare una visita ai Sassi in pratica partendo dalla propria abitazione. Questo quindi consente a chiunque che si trovi praticamente da remoto attraverso una spesa minima di poter iniziare a visitare tipo una chiesa utilizzando un visore che oggi ha un costo accessibilissimo e poter essere immerso immediatamente all'interno delle chiese rupestri di Matera. Ma non solo questa tecnologia è utile per il turista ma anche al ricercatore, allo scienziato che deve utilizzare degli strumenti di restauro, vuole preservare praticamente quello che c'è qui a Matera. Quindi effettuando delle digitalizzazioni e quindi delle ricostruzioni 3D in buona sostanza questi strumenti permettono a chiunque di poter fare delle attività in buona sostanza anche da remoto. La realtà virtuale in buona sostanza offre in prima istanza quella la fruizione praticamente a chiunque ma offre anche altre due importanti opportunità. La prima è l'inclusività, poter realizzare in 3D delle ricostruzioni che sono difficilmente accessibili a persone magari diversamente abili, beh la realtà virtuale permette anche a queste persone in buona sostanza di poter fruire di questi beni diciamo in maniera estremamente agevole. Ma non solo, una ricostruzione 3D fatta con queste tecnologie permette anche agli scienziati di poter effettuare delle misurazioni, di poter effettuare dei rilievi, ad esempio andare a verificare il tasso di umidità degli affreschi presenti qui a Matera. Il laboratorio nasce in buona sostanza per dare opportunità alle aziende del territorio di poter sperimentare queste nuove tecnologie e quindi tutte le attrezzature che sono disponibili all'interno di questo laboratorio possono essere utilizzate dagli aziende appunto per investigare nuovi modelli di business tipo ad esempio appunto parlavo prima dell'accessibilità oppure della misurazione all'interno di questi ambienti. Noi abbiamo scelto in particolare gli affreschi della chiesa di San Giovanni in Monterrone perché mostrano un esempio molto interessante di palinzesto, cioè sono livelli di affresco uno sull'altro. Il restauro virtuale ci consente proprio di suddividere e di ricostruire non solo diciamo anche proprio visivamente il racconto, la successione nella diacronia di questi affreschi che non sono spesso visibili o comunque il visitatore ha difficoltà nel poterlo distinguere e quindi vediamo proprio diciamo la distinzione dei livelli tra il primo e il secondo livello fino diciamo a un'ipotesi ricostruttiva che è questa, quindi l'outline lasciarlo così tal quale per far vedere cosa ha coperto e come doveva diciamo essere in origine. La stessa cosa era il secondo livello dove anche in questo caso vedete c'è diciamo una ricostruzione dell'outline di quello che non vediamo più e che poteva essere ricostruito. Quello che stiamo facendo è sperimentare le nuove tecnologie, in questo caso quella VR360 per condividere il nostro patrimonio storico e culturale. La sperimentazione la stiamo facendo non ricostruendo tridimensionalmente i luoghi ma riprendendoli così come sono utilizzando telecamere 360 che riescono a riprendere tutto quello che c'è attorno. La finalità è quella sicuramente di condividere, di rendere l'esperienza accessibile sicuramente. Noi stiamo indagando più che altro luoghi che non sono semplicemente inaccessibili a chi ha handicap vari, no che sono inaccessibili a tutti quindi luoghi segreti. È la sfida a livello diciamo tecnico e lavorando a 360 inizia dall'illuminazione perché ovviamente è tutto campo quindi tutta la ripresa è uniforme quindi a 360 gradi. La difficoltà tecnica anche per quanto riguarda anche registicamente per dare l'indicazione agli attori per muoversi all'interno degli spazi quindi stiamo sperimentando cercando di capire come illuminare le scene, come montarli e come ecco essere poi anche fruibili nel montaggio per rendere poi il video facilmente accessibile e anche diciamo di racconto ecco un racconto lineare per evidenziare poi tutte le caratteristiche del luogo. Sì è una sperimentazione non originale nel senso che non siamo gli unici che stiamo utilizzando questa tecnologia però la tecnologia alla fine che cosa è un linguaggio e dipende da quello che racconti quindi stiamo sperimentando questa tecnologia per arrivare comunque a tutti non soltanto al turista straniero alla persona con disabilità ma cercando anche di strizzare l'occhio al materano che vuole conoscere luoghi che sono sotto casa sua ma che non conosce. Sì infatti ci sono il sottotetto abbiamo reso accessibile per esempio il sottotetto della cattedrale di Matera ma anche reso accessibile anche la chiesa originale di San Pietro Barisano che sono tutti e due luoghi che studiano e sono stati studiati sono stati documentati a livello fotografico ecco ma manca sempre l'ambiente circostante quindi cercare di capire qual è l'intero ambiente, come è costruito, come è fatto e questo può offrire la soluzione tecnologica per visitarlo virtualmente questi ambienti.